L'intervista di Chef Trentino La domanda numero uno Perché hai deciso di diventare la chef? Non ho deciso di diventare chef ma ho deciso di diventare un cuoco prima di tutto Seconda cosa perché mi appassionava molto il dover cucinare da me quando ero piccolo e ho fatto questo non lo so, sbaglio o questa fortuna te lo dirò tra un po' di anni Qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito da mangiare è senza dubbio tutto ciò che concerne la pasta, quindi i primi in generale in particolar modo lasagne e risotti Qual era il momento quando hai deciso di forse smettere di lavorare come cuoco o lo chef? Mai Le biondole morre? Rosse Dopo ne parliamo Quale cucina che non ti inspira tanto? La cucina molto speziata non fa per me non vuol dire che non sia buona è un parere prettamente personale le cucine troppo speziate non mi fanno impazzire perché c'è una marcatura molto forte della spezia per cui magari stai mangiando una carne buonissima ma non te ne rendi conto perché viene tutto come dire oscurato dalla spezia la spezia è un ingrediente ma non è l'ingrediente principale Quali sono i tuoi abiettivi per il futuro? I miei obiettivi per il futuro a livello a livello professionale diciamo che stiamo sulla giusta strada perché sto per aprire un locale quindi per adesso mi limito a dire di aprire un'attività che funzioni a gonfio velo grazie mille lo chef ci vediamo presto ciao 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 ragazzi